Io vorrei iniziare questo culto pregando e come troviamo in Esra Esra 9 Nehemiah 9 Daniele 9 una preghiera di confessioni comunitaria perché stiamo entrando il culto è entrare nella presenza di Dio e nella Bibbia ogni volta che gli uomini vedono qualcosa di Dio Isaia capitolo 6 come reagiva entrando nella presenza di Dio no? e a volte cadiamo nel peccato di entrare con una certa leggerezza e e vogliamo più vogliamo più di Cristo allora questo vuol dire capire chi è Cristo quindi inizio pregando Padre Santo 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 sei tu i cherubini intorno al trono gridavano giorno e notte Santo 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 e l'eterno ed Isaia fu sconvolto vedendo qualcosa della tua gloria Giovanni vedendo la gloria di Gesù fu sconvolto e Padre purtroppo a volte noi non siamo sconvolti a volte non siamo colpiti siamo abituati entriamo e usciamo dalla tua presenza un po' come uno entra ed esce da un bar oh Padre perdonaci oh sì è certo per grazia possiamo dire che tu sei con noi tutto il giorno ma vogliamo capire la grandezza di questo vogliamo non dimenticare la tua gloria maestà in modo di essere meravigliati che per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso a te perdonaci per la superficialità con cui entriamo nella tua presenza insieme come chiesa per adorarti e grazie per il privilegio del perdono che è solo per mezzo di Gesù Cristo quindi grazie per il perdono grazie che possiamo entrare nella tua santa presenza guidaci ora nel nome di Gesù Cristo per la tua gloria Amen Trovate con me Giovanni 7 questa è la grande festa a Gerusalemme Gesù si trova lì e la festa del Tabernacoli questo è il giorno più grande di una festa che durava una settimana e Gesù si sta presentando come la luce del mondo come la vera acqua come la vita come il creatore come Cristo e leggo Giovanni 7 37 ora nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me come ha detto la scrittura dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva Aureli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato avete notato quanto Gesù attirava l'attenzione a se stesso versetto 37 se qualcuno ha sete venga a me e beva io sono colui a cui dovete andare e poi chi crede in me mettendo l'attenzione su se stesso come ha detto la scrittura quindi la scrittura parla di me in Giovanni 5 Giovanni parlava con i farisei voi investigate le scritture pensando che in esse avete la vita ma essi parlano testimoniano di me che dichiarazione le scritture parlano di me perché parlano di Lui e Lui diceva chi crede in me chi viene a me chi cerca in me con tutto il cuore è compreso devi andare a Lui venga a me che vuol dire vieni a me cosa implica se io vado a Gesù c'è qualcosa logicamente compreso devo spostarmi devo muovermi da dove sono da dove devo muovermi devo lasciare dove sono se vado a casa tua per forza devo lasciare casa mia non posso aggiungere Gesù io devo lasciare per andare a Lui lasciare quello in cui cercavo acqua lasciare quello in cui cercavo soddisfazione non posso solo aggiungere Gesù devo lasciare per andare e in Matteo 11 così dice Gesù a coloro che erano travagliati aggravati così dice venite a me e poi prendete su di voi il mio gioco allora devo lasciare per andare perché dice non c'è acqua se non in te e tu dai la vera acqua grazie a Dio grazie a Dio quindi oggi vogliamo andare a Gesù vogliamo valutare ci sono stati peccati che non ho voluto lasciare devo lasciarli per andare a Gesù ci sono idoli nella mia vita qui in casa stiamo parlando di idoli del cuore possono essere cose materiali possono essere roli possono essere approvazioni degli uomini possono essere tante cose ma ci sono idoli del cuore e stiamo parlando di questo e quindi devo lasciare per andare perché io voglio quest'acqua e prego che oggi possiamo andare a raccogliere quest'acqua preghiamo padre nostro santo glorioso maestoso incredibile ma per mezzo di Gesù Cristo umiliandoci per fede possiamo venire a te venire a te possiamo portare lode adorazione a te che sei Dio oh padre ti lodo ti ringrazio per un salvatore come Gesù Cristo un avvocato in cui c'è perdono un somma sacerdote in cui c'è questo libero accesso al trono della grazia il glorioso trono della grazia per ottenere aiuto e padri abbiamo riconosciuto che abbiamo tutti bisogno di te bisogno di aiuto per poter vederti pensare a te quanto faccio mente pensiamo a tutt'altro e c'è il momento di pensare a tutt'altro ma non quando entriamo nella tua presenza grazie per il perdono vogliamo camminare nella luce incredibile che ci accogli ma questo è per merito di Gesù Cristo allora nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo ci presentiamo a te per offrirti lode adorazione e ringraziamenti e ascoltare la tua voce nel nome e per mezzo di Gesù Cristo ti offriamo questo culto Amen Amen